Eccolo qui, buonasera mister, allora un gran primo tempo del Pescara, una ripresa meno buona, è arrivato questo pareggio che però è un pareggio che serve per muovere la classifica, per far restare il Pescara al secondo posto e per guardare comunque con moderato ottimismo la gara di domenica prossima a Perugia. E' mancato il gol del raddoppio forse per chiudere la gara e poi c'è stato il ritorno dell'Ascoli con il pareggio di Ardemagni. E' stata una partita che noi fino al momento della gola abbiamo gestito bene, abbiamo creato tanto e raccolto poco, nel senso che abbiamo avuto tante occasioni nel primo tempo, il rigore sbagliato e poi è chiaro, becchi un gol in contropiede e vinci 1-0 abbiamo fatto un errore madornale che non deve succedere se vuoi essere e rimanere una squadra competitiva. Un pareggio frutto anche delle parate di Lanni, grande protagonista e un po' anche degli errori degli attacchi biancazzurri, degli attaccanti quest'oggi di Mancuso e compagni. Le opportunità ci sono state ma non sempre si riesce a mettere il pallone in rete. Lei è un po' preoccupato per il fatto che questa squadra ha qualche difficoltà in alcuni frangenti a mettere il pallone alle spalle del portiere avversario? No, sarei preoccupato se non ci fossero le occasioni, le occasioni sono state tante, solo che le abbiamo sfruttate bene, dobbiamo continuare a migliorare da questo punto di vista. Quello che non mi è piaciuto l'ho detto, la gestione dopo il gol, non abbiamo gestito bene la partita, invece di rimanere compatti ci siamo disuniti e abbiamo preso un gol che si poteva tranquillamente evitare. Parlavamo anche con Brugman, era accaduta la stessa cosa con il Lecce, addirittura il doppio vantaggio, il 2-2, poi partita vinta, come mai questa squadra non riesce a chiudere le partite ed ammazzare le partite? È un nostro problema, questo che dobbiamo assolutamente risolvere, cercando di finalizzare meglio, di essere più concreti ma soprattutto di non subire certe ripartenze, certe situazioni che in questo momento ci stanno penalizzando. Oggi non è stata una grandissima giornata per gli attaccanti, soprattutto per Monachello che abbiamo visto al momento della sostituzione imprecare un po' contro la panchina, lei ha visto qualcosa? No, non ho visto niente, mi hanno detto anche prima che ha fatto delle cose che non doveva fare, verificherò questo, io dopo la partita non parlo mai, quando sarà il momento opportuno prenderò il giocatore perché deve rispettare soprattutto chi entra e rispettare quelli che non stanno giocando e rispettare anche il sottoscritto e la società. L'ultima pillone, domenica prossima gara a Perugia, un'altra gara impegnativa con il Pescara chiamato a far punti al Curi. Noi dobbiamo far punti dappertutto, giocarci le nostre partite come stiamo facendo, cercando di migliorare su alcuni aspetti dove in questo momento stiamo mancando. Grazie al tecnico del Pescara.